Mister, seconda vittoria consecutiva dopo il 4-0 a Caserta serviva una risposta anche dalle seconde linee cosiddette ma il Catania stasera ha dimostrato che di seconde linee forse non ce ne sono tante. Infatti ti avrei corretto, siamo una squadra con una rosa competitiva, è una competizione alla quale dobbiamo tenerci perché abbiamo la rosa che ci può permettere di affrontare anche questa competizione in maniera importante e sono contento di quello che hai detto perché è quello che comunque andiamo a ricercare dall'inizio del ritiro se vogliamo arrivare ad ottenere grandi risultati dobbiamo considerare tanti giocatori perché altrimenti si può far fatica, si vive sull'infortunio di uno e poi caschi in terra e invece dimostrare di avere tanti giocatori, questa è una dimostrazione che hanno dato i ragazzi oggi vuol dire che abbiamo una rosa per poter fare qualcosa, vedremo di che livello. Uno dei migliori in campo, sicuramente se non il migliore in campo è stato Bocic Gli ha dato una bella strigliata dopo quel rosso inutile preso a Caserta? Era già da solo se l'è data, quindi quando vedo un giocatore che capisce l'errore che ha fatto è inutile andare a... abbiamo parlato di questa cosa perché ovviamente si è reso conto anche lui di aver fatto un errore, quando però un giocatore si rende conto di aver fatto un errore è un grande passaggio, penso che è un ragazzo giovane e questa espulsione gli servirà per il futuro ovvio che se dovesse ricapitare allora inizia a essere un problema ma penso che tutti debbano sbagliare, possano sbagliare la reazione che ha avuto oggi vuol dire che ha capito che qualcosa magari può aver lasciato nonostante già domenica aveva fatto un'ottima prestazione. Il 2-0 firmato da Manuel Sarau, importantissimo questo gol sicuramente per il ragazzo che insomma aveva bisogno di una dose di fiducia dopo qualche partita fatta non benissimo diciamo, lei però ha sempre dato fiducia a Manuel dicendo che gli serviva tempo per entrare nei meccanismi oggi ha segnato questa rete, quanto è importante per il ragazzo? Tanto e sono molto, 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 tante volte molto contento perché se lo merita prima partita ho detto speriamo che... penso che tu possa far gol perché te lo meriti perché è un ragazzo serio, disponibile, che si mette sempre a disposizione nell'allenamento e anche in partita e quindi aveva bisogno di una soddisfazione personale perché poi è chiaro che per l'attaccante il gol diventa una cosa importante ma eravamo già contenti prima del gol e quindi sono molto contento per lui. Gol su calcio piazzato, ne abbiamo parlato qualche settimana fa quanto era importante sfruttare gli episodi, oggi poi alla fine il gol da calcio d'angolo è risultato anche poi decisivo. Sì, sì, servono i gol su calcio piazzato, forse è il primo che facciamo e quindi è una cosa che dobbiamo migliorare, lavorare, lavorarci ma penso che batterli bene, andare a saltare con la forza che sono andati oggi i ragazzi è un grande aiuto, sicuramente cercheremo magari di trovare sempre più soluzioni su questi episodi però poi bisogna lavorare bene come hanno fatto i ragazzi quando la palla è in movimento e che aiuta ancora di più. Cosa serve per dare continuità con Latina che sarà una partita abbastanza complessa? Sarà una partita complessa come qua, dimostrano tutte le partite di esserlo per tutti bisogna continuare a lavorare come stiamo lavorando sostengo che in questo campionato dall'inizio con qualche piccolo errore in ogni partita ma una partita veramente sbagliata è stata con Monopoli e quando tanti giocatori, la squadra sbaglia prestazione vuol dire che qualcosa ho sbagliato io nelle uscite iniziali ve l'avevo già detto ho sbagliato, il resto l'atteggiamento è sempre stato molto positivo io penso che l'atteggiamento sia molto importante in una squadra quindi mantenere questo atteggiamento, crescere di autostima grazie a queste due vittorie e ora buttarci sotto domenica sapendo che in questo campionato come tutti dicono ma come i risultati dimostrano ogni partita è sempre difficile dobbiamo prepararci bene e affrontarlo nel miglior modo possibile. Grazie a tutti i nostri spettatori